Sono come gli intramontabili di Rete4, un'altra produzione è Charlie Brown. Come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non fischiare, come non si fa a saltellare, saltellare. Come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo, come non si fa a non battere le mani a tempo A smorza cannella Posizioni orciastiche Ti fanno già pensare al domani Più convinto del tuo io 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie per la visione!